Sesto minuto in questo momento e qui si riprende con un calcio di rinvio da parte del portiere del Montepaone. Cerca di impostare l'azione, lo stesso Montepaone ma ancora Carbone che ruba palla, la scambia con Romeo. Caracolla Romeo appoggiando per Carbone che controlla, sovrapposizione, entra in aria Aquino, si tratta di Davide che ha portato un po' all'estero, colpo di testa e non ci arriva Gianmarco Lombardo. Di testa, molto bravo, Bruzzaniti è riuscito a spizzare con precisione, lasciato un po' solo. Un episodio al settimo della ripresa ha rotto l'equilibrio, Bruzzaniti è stato freddo ed è riuscito a trovare l'imbucata vincente. Al contempo però va detto come il Montepaone, non è che si sia scomposto più di tanto e sta recitando in pieno il suo copione. È una gara ancora aperta, non credo che l'1-0 rimanga così fino alla fine. E intanto il tocco è per Romero che si accentra, appoggia per Romeo, entrano nell'area di rigore, arriva davanti al Gianmarco Lombardo, ancora Romero che aspetta il tiro, gran tiro di Romero e questo è un numero di alta scuola. Il tocco è per Carpino, la palla però viene conquistata ancora dal numero 21 Mammoliti che si invola sulla fascia. Carella recupera, si libera dell'avversario e la mette dentro con decisione. L'unico momento al 34esimo in cui Conidi si è distratto un attimo. Il San Luca vince per 3-0 sul Montepaone qui al Frabotto Manis e mister Maurizio Panarello. Una bella partita dove avete giocato da prima della classe e dopo un primo tempo un po' sofferto avete premuto l'acceleratore. Sì, sofferto solo perché abbiamo sbagliato il numero dell'occasione da gollo, però penso che sulla vittoria sia nel primo o nel secondo tempo non ci sia nulla da dire, anche perché il nostro portiere non è stato mai impegnato. È una pecca che abbiamo un po' nelle ultime partite, sbagliamo un bel po' di gol prima di farne uno. Però penso che la squadra abbia dimostrato che ha vinto il campionato meritatamente, essendo nettamente superiore a tutte le altre squadre. E questo non si discute. Una parola per Costanzo, un giovanissimo un po' sfortunato. Che cosa gli è successo? È entrato e poi è uscito? Sì, appena ha fatto il primo scatto ha sentito tirare all'inserzione del quadricipite, non ce la faceva, ma che subito uscire, peccato. Perché è un 2002, stavo giocando, giocare in questi campionati è sempre bello, però poverino ha avuto subito questo fastidio e l'abbiamo fatto uscire, sarà per la prossima volta. Allora, visto che di complimenti a San Luca si sono fatti tanti, permetteteci un complimento diretto a Mr. Panarello, che oggi, oltre a vincere il campionato, ha fatto anche il corso, ci diceva, per allenatore professionista. E quindi, doppio complimento. Mi sembra che l'abbia fatto insieme a grandi nomi. Sì, sì, c'erano grandi nomi del calcio professionistico. È un grande onore per me. Io, sempre fatto da dilettante, sia da giocatore che da allenatore, aver partecipato con tanti giocatori professionisti. E' un onore per me avere questo potentino di allenatore professionista. Adesso vediamo. E allora, complimenti al San Luca. Quanti gol mancano al record nazionale, ci diceva il Presidente? Sì, mancano praticamente al record regionale, sono 108. Noi ne abbiamo fatti 106. Poi al record nazionale del Milan, mi sembra, nel 1950, ne ha fatti 119. Là è un po' più difficile arrivare, però vedremo. Adesso rimangono due partite. Vedremo, per la soddisfazione del nostro pubblico e della nostra società, di arrivare anche a quel record. Ed eccoci ora con il Mr. Alessandro Pisano. Mr., una partita corta, tatticamente ben gestita, però il San Luca è forse di un pianeta superiore. Sì, diciamo che eravamo andati abbastanza bene, avevamo tenuto bene il primo tempo, creato qualcosina. Il San Luca aveva avuto un leggero predominio, però diciamo che era abbastanza equilibrata la gara nel primo tempo. È normale, il San Luca è una squadra di categorie superiore. L'ha dimostrato sul campo in tutto il campionato e lo ha dimostrato anche oggi, avendo delle individualità di tutto rispetto e anche un'organizzazione di gioco che è comunque difficile andarle a prendere un po' in tutte le zone del campo. Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo, sono contento della prestazione. Ovviamente non si poteva pensare di essere superiore al San Luca, però ci abbiamo provato, questa è la cosa importante. E alla fine, anche se forse era in fuorigioco, Emanuele Bitonte si stava per togliere una soddisfazione. Diciamo, lui rappresenta il Montepone del futuro, come tanti altri giovani. Certo, lui come tutti gli altri rappresenta il Montepone del futuro, perché oltre Emanuele è entrato anche Mattia, è entrato anche Bene, Luigi Sinopoli che ormai quest'anno ha fatto un campionato di grandissimo livello, Platì, Ienco, Doria, sono tutti ragazzi che hanno fatto vedere in partita di campionato importante come la promozione, quella che è la loro bravura. È normale, non è facile, però il percorso che hanno fatto mi inorgoglisce, perché sono nel settore giovanile del Montepone, quindi è un piacere vederli giocare poi in prima squadra. Grazie. 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 Grazie.